Io sono davvero emozionata di averla qui come amica, come ospite, faremo grandi cose insieme, lei già lo sai che è una minaccia, farò ingrassare anche a te come ha fatto ingrassare tutte le mie colleghe, un applauso fortissimo per la nostra Mistra in Italia 2019, Ava Anga! 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 Ava Anga!